Ci troviamo davanti all'impianto campanare della parrucchiale di San Pietro Apostolo dove volevo dimostrare, fare un video dimostrativo sulla programmazione e sulla cancellazione di una suonata presente nell'impianto campanare. Ora procediamo così, facciamo un esempio Mettiamo caso che oggi vogliamo suonare a festa per il rosario oppure per qualsiasi evenienza, no? Facciamo così, mettiamo il codice 0, 0, 35, 3, 7, 20, me lo dia, 29 Con il tasto M si memorizza, con il tasto C si cancella E quindi così, così è venuto confermato Se invece vogliamo cancellare una suonata digitare 0, 10 0, 10 E qua ritorna tutto M e poi C per cancellare Questa è la suonata feriale Tutto il resto Grazie per questa attenzione Per questo video dimostrativo Poi la prossima volta faremo anche un altro video dove vi spiegherò più dettagliamente le varie suonate A presto dal vostro campanare 81 Tutto una